Baia Calenella, siamo con Arianna Sansavini, fotografa professionista che sta tenendo un corso come scattare fotografie con il telefonino. Perché in questo bellissimo posto del Gargano e a che cosa mira questo corso? Questo corso mira a dare un po' più importanza a questa location fenomenale, fantastica e anche a ispirare un po' le persone qua in vacanza, non solo al divertimento ma anche un po' di cultura all'interno appunto della vacanza. Se lei è una fotografa professionista, quindi avrà scattato migliaia di fotografie, ma qui sul Gargano, in questo posto del Gargano, che cosa è bello fotografare? Beh, diciamo che la natura qua fa da padrone, poi anche le persone, il cibo, un po' di tutto. Qua diciamo che siete molto forniti. La differenza di scattare una fotografia tra un apparecchio professionale e un telefonino? Beh, le differenze per fortuna sono ancora tante, però ci sono moltissimi dispositivi ad oggi capaci di avere dei file davvero fantastici. Da utilizzare magari sui social anche? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Cosa si racconta oggi con la fotografia? Con la fotografia oggi si raccontano tantissime cose, emozioni, storie, aziende, persone, natura, si racconta veramente tanto, si comunica. Professor Nello Biscotti, geobotanico, ormai storico, botanico sempre a contatto con le piante, soprattutto del Gargano. Che cosa c'è da fotografare di bello in questo bosco, ma un po' più in generale nella montagna del Gargano? La fotografia poi dipende sempre da quello che è il focus del fotografo. Io posso fotografare anche il disegno del tronco. Già questo può dare molto, si può fare una fotografia molto artistica, che ne so, su un particolare di una foglia. Ovviamente sono i soliti fiori che hanno catturato l'interesse poi del fotografo, perché il fiore è l'emblema, poi quello che esprime l'identità di un vegetale. Ma questo è un approccio molto riduttivo, semplicistico, perché ecco, se c'è un fotografo, il fotografo sicuramente sa trovare anche, ripeto, nel ritidoma del tronco o nella forma di una radice, quanta arte possibile, se è vero che la fotografia poi è arte, no? Perché alla fine è questo. Ecco, lei ha scattato tantissime fotografie in questi anni, ricorda una in particolare, qual è stata la foto più bella che ha scattato sul Gargano? Qui ci vuole una battuta, perché un grande fotografo diceva che le migliori foto sono quelle che non sono mai state scattate, perché o non c'aveva la macchinetta, oppure si era finito, all'epoca finiva il rullino, adesso sto tempo è superato. Beh, le fotografie più belle sono quelle che ti portano ad abbassarti, a sdraiarti per terra e a cogliere particolari, intanto di piccole piante, perché poi c'è un mondo di piante piccole, piccolissime, molto basse, e per cui solo un occhio attento riesce ad afferrarle e a fissare quei momenti che soprattutto una piccola piantina, alta non più di un centimetro, le più belle foto sono fatte con i muschi, con i licheni, no? E quindi ecco ancora una volta il tronco, perché se ti trovi su un tronco lì puoi trovare questa biodiversità, di queste forme di vita primitive che cominciano a ricordarci che la vita così cominciò, cominciò con queste piccole piantine che abbiamo imparato a chiamare muschi e licheni. Stefano Bezzi insieme al fratello Fabio sono i proprietari di Baia Calenella. Com'è nata l'idea di organizzare un corso di fotografia in questo luogo? L'idea è nata da alcune esperienze già fatte di divulgazione scientifica sul territorio, iniziati prima con Lucrezia Cilenti sulla storia delle tartarughe, poi col professor Nello Biscotti sulla vita del bosco, e visto che oggi come oggi tutto è comunicazione, i giovani vivono col telefonino, abbiamo inteso proporre un corso di fotografia col telefonino fatto da una professionista d'accademia che conosce i fondamentali, è come improvvisare la musica, è come conoscerne invece tutto il linguaggio in maniera scientifica. E quindi questo corso è finalizzato a far divertire la gente, farle conoscere di più l'uso del telefonino per la fotografia, e utilizzare questo per dare visibilità alle nostre eccellenze, soprattutto all'eccellenza ambientale di questo bosco. Anche perché qui nel bosco didattico di Calenella c'è davvero tanto da fotografare? C'è davvero tanto da fotografare e tanto da conoscere. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un'esperienza col professor Biscotti di divulgazione di questa conoscenza in maniera un po' più approfondita e abbiamo visto quanto c'è da capire in più. Allora abbinare questo al corso di fotografia, degli shooting che illustreranno le nostre eccellenze ambientali, abbiamo ritenuto che fosse una cosa di interesse nuova da proporre ai nostri ospiti. In più vorremmo che da questo nascesse una mostra fotografica itinerante dei migliori scatti dei partecipanti al corso. Insomma, Baia Calenella non è solo male. Questo è per noi, Baia Calenella è un luogo di vita, è un luogo di cultura, è un luogo di memoria e così vogliamo continuare la nostra attività.